La Confesercente Abruzzo ha presentato Le mani della criminalità sulle imprese, tredicesimo rapporto curato dall'organizzazione SOS Impresa, è scritto dal suo presidente Lino Busà. SOS Impresa è una situazione anti-racket e anti-usura che è nata a Palermo nel 1991 in relazione all'omicidio di Libero Grassi e poi è presente con sportelli e con proprie associazioni soprattutto nel centro e nel sud del nostro paese. Anche nelle regioni del centro-nord la pressione mafiosa è consistente e si esercita in svariati modi, non soltanto con la semplice richiesta di danaro contante, ma anche nella richiesta di beni e servizi, l'imposizione di mano d'opera e forniture. Tra le attività che facciamo, oltre a quello di cercare di convincere gli imprenditori a denunciare, presentiamo ogni anno un rapporto alle mani della criminalità sulle imprese dove cerchiamo di delineare la presenza delle mafie nel tessuto economico, la loro incidenza sulle imprese e le evoluzioni stesse dell'attività imprenditoriale delle mafie. Questo aspetto riguarda l'intero Italia. Anzi, oggi, soprattutto anche per l'attenzione da parte dello Stato, nel colpire non solo i clan, ma anche i patrimoni e l'attività finanziaria, c'è un interesse da parte delle organizzazioni criminali a reinvestire e a riciclare nel centro e nel nord del paese. Da qui l'attenzione anche a questa regione. Grazie. 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 Grazie.